Nuovo appuntamento con tra le righe, consigli di lettura e libreria. Anche questa settimana partiamo con un libro edizioni Padre Pio da Pietrelcina dedicato al Santo. È un libro scritto da un teologo tedesco, Peter Dyckhoff, si intitola Padre Pio e la preghiera di quiete. Scopriamo come nasce questo libro. Il libro racconta nella presentazione, Peter Dyckhoff, teologo e autore di questo libro, che tutto è nato dalla lettura di un articolo pubblicato su voce di Padre Pio. Ebbene, Dyckhoff apprese che il Santo di Pietrelcina praticava la preghiera di quiete, cosa di cui si trova traccia in molte delle sue lettere. Del periodo che va tra il 1910 al 1922, abbiamo a disposizione 336 lettere scritte da Padre Pio e i suoi direttori spirituali. A questa se ne aggiungono altre 56 indirizzate a Raffelina Cerase. Dyckhoff cita commentandoli tutti quei passaggi che rispecchiano la preghiera di quiete. E poi scrive, oggi che sono in età avanzata, appunto scrive Dyckhoff nella presentazione, Padre Pio torna a farmi visita attraverso le sue numerose lettere. Per me è stato un grande dono scoprire, fra le righe del suo epistolario, numerosi indizi che lui praticasse la preghiera di quiete. Del periodo che va dal 1902 al 1922, appunto racconta di queste 336 lettere che Padre Pio scrisse ai suoi due direttori spirituali, Padre Agostino e Padre Benedetto. A queste si aggiungono le altre 56 indirizzate a Raffelina Cerase tra il 14 e il 15 e a questo complesso di 392 lettere che ho attinto, scrive Dyckhoff, per citare quei passaggi che rispecchiano la preghiera di quiete. Ad ogni citazione poi Dyckhoff aggiunge un breve commento. Possa quest'opera servire, dice, con l'aiuso dello Spirito Santo e anche di Padre Pio, ad avvicinare i lettori a questo tipo di orazione, praticata dal Santo e affine alla preghiera di quiete. Ve lo consiglio, questo libro è uscito da poco nelle librerie, Peter Dyckhoff, Padre Pio e la preghiera di quiete, edizioni Padre Pio da Pietrelcino. E' stato beatificato il 10 ottobre scorso, è stato venerato da tantissime persone, tanti giovani hanno potuto sostare dinanzi alla sua tomba fino al 17 ottobre, il corpo di Carlo Cutis visibile a tutti i fedeli. Ebbene, tanti sono i libri che stanno fiorendo in questo periodo, c'è uno in particolare delle edizioni francescane italiane, di Barbara Baffetti, una stella di nome Carlo. Qualche riferimento all'autrice, Barbara Baffetti, madre e moglie, ha pubblicato numerosi testi rivolti ai bambini, ai ragazzi e promuove da molti anni un progetto di affettività e rispetto nelle scuole di ogni ordine e grado. In questo libro, Barbara, alla luce della stella, che in questo caso appunto è Carlo Cutis, racconta la storia di Alex, Lea, Nicolò e Nina, che partono per un campo estivo dell'oratorio. Non si conoscono tra loro e in valigia portano non solo vestiti, ma anche storie complicate, desideri e paure. A un certo punto scopriranno un cielo colmo di nuove promesse e saranno guidati da una stella speciale, quella di Carlo Cutis, che come leggiamo nell'introduzione, appunto firmata da Barbara Baffetti, che fa un po' un riassunto di quella che è la storia di Carlo. Aveva 15 anni, un ragazzo come tanti, la sua vita brevissima, stroncata nel giro di pochi giorni da una leucemia fulminante e densa di spunti per tutti, scrive l'autrice. Interroga gli adulti sulla solidità della propria fede e suggerisce percorsi spirituali ai suoi coetanei. Il libro che è stato per leggere, scrive l'autrice, non è però l'ennesima biografia di questo giovane beato. Si è scelto piuttosto di proporre un testo narrativo per mostrare come la vita di Carlo possa illuminare quella di tanti giovani. È il senso di una santità che diventa esempio e luce per la vita di altri. E il testo racconta, scrive l'autrice nella presentazione, così la storia di quattro ragazzini alle prese con le domande spinose, quelle difficili della fede e della vita. Sono solo alcuni degli interrogativi che sorgono nell'adolescenza di fronte ai nodi più o meno faticosi del crescere. La scoperta del giovane beato di Milano cambierà, nei protagonisti del racconto, la prospettiva con cui guardare le cose. Il tutto si svolgerà nell'asse spazio-temporale compreso tra Milano, città natale di Carlo Acutis e Assisi, che gli era così cara da chiedere di esservi sepolto, in quanto luogo natale di San Francesco, che fu per il giovane un esempio importante per la sua vita alla ricerca di santità. È quindi un racconto che offre la possibilità di scoprire nella cornice di Assisi i luoghi di Francesco amati da Carlo, e in particolare le mura del santuario della spogliazione, che lega in modo inscindibile i due. Infatti Carlo è sepolto proprio lì. Ci sono anche all'interno, questa è una cosa molto bella, dei box all'interno appunto del libro che permetteranno di fissare dei passaggi della vita di Carlo, delle passioni del giovane Carlo, e poi in appendice si trova una breve biografia del giovane beato. Quindi davvero un libricino, una storia che vi consigliamo, alla luce della stella di Carlo, una stella appunto di nome Carlo, di Barbara Baffetti, edizioni francescane italiane. Per la LDC, Umberto De Vanna, che abbiamo avuto modo di incontrare anche nei nostri incontri via Skype, salesiano, sacerdote e giornalista, che si occupa da sempre di pastorale giovanile e vocazionale, insieme anche alla catechesi, Umberto De Vanna pubblica questo libro per la LDC. Ripensare la fede, l'amore e la misericordia con le parabole, infatti si intitola Sorpresi da Dio, per una lettura personale, Il Tempo dello Spirito. Perché ha scelto proprio le parabole, Umberto De Vanna, per scrivere questo libro? Perché le parabole sono per Gesù il modo più immediato e naturale di far conoscere i progetti di Dio sul mondo e su di noi. Gesù parla in parabole per far conoscere il Vangelo del Regno, per trasmettere l'amore senza misura del Padre, la sua infinita misericordia e la giustizia. Per parlare di Dio e dei suoi sogni, del suo modo di vedere l'uomo e la vita, Gesù non fa sconti astratti, ma parte sempre dalle esperienze di chi lo ascolta, dalla vita vissuta, da situazioni che tutti conoscono bene. Giungendo a mettere ciascuno davanti a qualcosa che lo coinvolge, per costringersi a orientarsi, a esporsi, a esprimere giudizi che lo mettono, per così dire, spalle al muro. E poi dà delle indicazioni De Vanna per cercare appunto di rileggere i temi centrali della nostra fede alla luce di alcune parabole di Gesù. La sorpresa di chi scopre la fede come qualcosa di fortemente desiderabile, l'invito a farsi terreno buono per accogliere la parola, mettere in discussione la nostra fede debole, riconoscere la nostra indifferenza, la mancanza di misericordia, trovando infine il significato ultimo delle nostre scelte, riflettendo su cui non ha avuto nella vita misericordia verso i piccoli. Ci sono delle belle domande all'interno di questo libro. Ci sono anche dei personaggi che Umberto De Vanna presenta per, come dire, spronarci a fare meglio. Ci sono naturalmente delle esperienze al top, è il caso di dire, come quella di Madre Teresa di Calcutta oppure del Mahatma Gandhi. Però ecco, per il resto, tenendo come punto di riferimento le parabole, riesce a lanciare spunti di riflessione molto interessanti. Cita ad esempio Miguel de Unamuno e dice Amo tanto la vita che perderla mi sembra il peggiore dei mali. Non amano veramente la vita coloro i quali se la godono giorno per giorno, senza curarsi di sapere se dovranno perderla del tutto o no. Non dico che meritiamo un al di là, né che la logica ce lo dimostri. Dico che abbiamo bisogno, lo meritiamo o no e basta. Dico che giò che passa non mi soddisfa, che ho sete di eternità e che senza tutto questo mi è indifferente. Ne ho bisogno, ne ho bisogno, senza di essa non c'è più gioia di vivere, la gioia di vivere non ha più nulla da dirmi. È troppo facile affermare, bisogna vivere, bisogna accontentarsi della vita. E quelli che non se ne accontenteranno? È un bel interrogativo quello che ci pone in questo libro, però davvero è interessante perché questi spunti possono essere utili anche durante una catechesi oppure per la pastorale giovanile. Sorpresi da Dio, LDC, affirma Di Umberto De Vanna. C'è qualcuno lassù? Questa domanda se la fa Bruno Ferrero con le nostre piccole storie per l'anima. Come sempre concludiamo con una bella storia. Una bella storia anche con, come dire, una sorta di morale che il grande Bruno Ferrero, autore di tante storie, ci presenta. Scegliamone, ecco, scegliamone una così, a caso, senza pensarci troppo, anche perché sono tutte molto belle. Viveva un tempo tra i monti un uomo che possedeva una statua, opera di un antico maestro. L'aveva buttata in un angolo faccia a terra e non se ne curava affatto. Un giorno si trovò a passare nei pressi un uomo che veniva dalla città. Essendo un uomo di cultura, quando vide la statua, chiese al proprietario se fosse disposto a venderla. Il proprietario rise e disse, E chi vuole che la compri, scusi, quella pietra sporca e scialba? L'uomo della città disse, ti do in cambio questa moneta d'argento. E l'altro ne fu sorpreso e felice. La statua fu trasportata in città a dorso di un elefante. Dopo molte dune, l'uomo dei monti si recò in città e mentre camminava per la strada, vide gente affollarsi davanti a un edificio, dove un uomo gridava a gran voce, Venite a vedere la statua più bella, la più mirabile esistente al mondo. Solo due monete d'argento per ammirare l'opera meravigliosa di un grande maestro. E l'uomo dei monti pagò due monete d'argento ed entrò nel museo per vedere la statua che lui stesso aveva venduto per una moneta. Questa storia non è di Bruno Ferrero, è di Gibran. Con una riflessione. Vivevo sul lato in ombra della strada e osservavo i giardini vicini al di là della strada, festanti nella luce del sole. Mi sentivo povero e andavo di porta in porta con la mia fame. Più mi davano della loro incurante abbondanza, più diventavo consapevole della mia ciotola da mendicante. Finché un mattino mi destai dal sonno e all'improvviso aprirsi dalla mia porta e tu entrasti a chiedermi la carità. Disperato, ruppi il coperchio del mio scrigno e scoprì sorpreso la mia ricchezza. Bella e bella anche questa riflessione, come sono belle le storie di Bruno Ferrero. Questa è raccontenuta nel libro C'è qualcuno lassù, come sempre, edito dalla LDC. Bene, con questa segnalazione concludiamo anche questo appuntamento in libreria. Per rivedere questa puntata, ma anche le altre, già andate in onda su Padre Pio TV, vi consiglio di visitare il nostro canale YouTube Padre Pio TV e perché no, anche iscrivervi così. Ogni giorno avrete le novità che pubblichiamo. Grazie ancora per essere stati con noi e buona giornata a tutti.